E' fatto dal nostro ultimo lavoro, Rock Down, che è qua, un vendita per voi e per noi per poter sopravvivere. Questa è una canzone che ho scritto io, tutte le altre, scritte Luca Magnoli. Un bel applauso a Luca Magnoli, che è qui? Questa invece è una canzone, è una song che ho scritto io, che si chiama... Nooo, nooo, grazie a Dio, non si trova, non si trova, non si trova. Nooo, grazie a Dio, grazie a Dio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.